mandami un messaggio quando arrivi a casa ti ho comprato un regalo niente di che è solo un pensierino ti ho chiamato perché ripensavo non volevo dirti nulla di particolare ho preso un biglietto per il cinema anche per te ti ho ottenuto il posto ti sto aspettando mi sei venuta in mente che bello quando sorridi per qualsiasi cosa chiamami ti devo prestare un libro è troppo bello devi leggerlo assolutamente siediti tu e tanto io ho voglia di stare in piedi sceglilo tu il film ci andiamo insieme se vai tu vengo pure io no se non ti piace allora facciamo qualcos'altro ti va una birra in due ci prendiamo una pizza e la mangiamo da me che ti va di mangiare prendi pure il mio tieni la mia giacca che tanto io sento caldo ti ho visto passare oggi ero io quello che ti ha suonato il clacson buongiorno buongiorno caffè buonanotte sono queste tutte le volte che ti ho detto ti amo grazie a tutti grazie a tutti